Signor Giovanni, c'è un amico che lavora con l'altro? Si Se la posso lasciare? Si, prego Pronto? Buonasera Buonasera Come sta? Signor bene, c'ho la vita Eh? Si Eh, infatti, infatti, si Eh, ci vuole, grazie, ci vuole perché Perché dobbiamo camminare per salvare questo mondo Ma ora, piano piano vediamo di ricominciare, vediamo di ricominciare Perché per ora, per ora io ho un paio dati che Che poi faccio il mio mestiere che il barbiere E mi sono ritirato, però con il tempo, con gli anni poi vediamo di tornare perché Eh, perché ormai l'umanità mi sa che è arrivata all'apice proprio Eh, eh, vediamo, vediamo dopo, dopo selezioni regionale e nazionale che succede Eh, perché se noi ci mettiamo sul cammino noi Sì Sì, 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 ma dobbiamo mandare assieme Sì, assieme Uno per tutti Uno per tutti e tutti per uno Tutti per uno Che siamo stupidi di combattere con questi che ci schiavizzano Eh, 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 e loro si siedono nella sezia straia, si muovono i figli, una moglie E noi niente Manco potremmo lavorare E il nostro sangue, sono dei sangi sughi Sono, fanno schifo Dobbiamo creare un nuovo regno, il regno del porcelotti Non l'abbiamo Ah, 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 ah Ah, 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 ah C'è la mia carattina C'è il fatto della domanda che andrà a escele porci, finito la foto ecco no ma siccome l'umanità di pochi nata fa schifo e quindi uno dice meglio un morto non si chiama meglio un canamico 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 dobbiamo andare da paparazzi in guerra perchè chiuso se mi sa fare foto e se ne potete tutti tu papà non mi piace mancati dopo tedesco eh chiuso dopo tedesco e solo un papà siciliano dopo ci hanno rotto l'anima pregare a dio e pregare a te a me e l'indorna ma che cavolo non sarebbe più e il cristiano già ti sa più dei volti cambiali che arrivano pagare di qua pagare di là è un nazisamento più cristiano un panico figlio un bordello un bordello totale ma in armonia c'è ma dobbiamo mettere in atto che per sposarsi in un abito di ventiello ventiello non è un'altra cosa esatto vabbè vabbè ciao senti bene vai bene ci vediamo col cervello non preoccuparti mentalmente è pure buono magari che io lavoro con due figli da meritare vabbè vabbè ciao senti bene amuri 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 oh grazie bello l'ho invitato a palermo dice che viene ci viene a trovare gli offriamo un caffè gli offriamo un pranzo una cena una pizza e io ho cura lui ci sta pure io gli ho dato il diglietto noi vogliamo andare solo e porci gli umani no vai dimmi